oh si devo pescare oggi una bella giornata è una giornata rilassante apposta apposta per pescare vediamo un po' se trovo qualche pesciolino chissà a me piace oltre che funghi anche il pesce vediamo un po' qualcosa ha preso ha preso qualcosa sto tirando che fatica qualcosa di grosso sicuramente sarà un pesciolone sì vediamo è una scarpina pesce d'aprile ciao